I rapporti tra Arezzo, il Monastero di Camaldoli e l'Ordine Monastico Camaldolese saranno al centro della giornata di studio organizzata dalla Società Storica Aretina, in collaborazione con la provincia di Arezzo e la stessa congregazione camaldolese con la sponsorizzazione di Banca Etruria. Il convegno, intitolato I Camaldolesi ad Arezzo, mille anni di interazione in campo religioso, artistico e culturale, è in programma martedì 9 ottobre nella Sala dei Grandi della provincia, a partire dalle 9.30. Arezzo ha da sempre rappresentato per i camaldolesi un luogo di importanza centrale, in quanto città più vicina all'eremo e sede delle due istituzioni preposte al governo del territorio casentinese, il Vescovado e il Comune. Tra l'XI e il XII secolo la città fu toccata dall'espansione dei camaldolesi, che vi fondarono i monasteri di Santa Maria Ingradi, San Clemente, San Michele, San Benedetto e dei Santi Lorentino e Pergentino. Si è realizzato così un fecondo scambio che ha portato ad un arricchimento reciproco, un'interazione dialettica e dinamica dal punto di vista politico, culturale e artistico, in un arco di tempo che va dall'XI secolo alle soppressioni ottocentesche. La giornata di studi è inserita nel calendario nazionale delle celebrazioni del millenario della Fondazione del Sacro Eremo di Camaldoli, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero per i beni e le attività culturali, di quello per le politiche agricole, alimentari e forestali, oltre che della Pontificia Commissione per i beni culturali della Chiesa. Grazie.